Giorgio Tirabassi è una delle figure di spicco del cinema italiano, i suoi esordi risalgono agli anni Ottanta dove è salito alla ribalta nel piccolo schermo con le sue prime produzioni di successo. A renderlo conosciuto al grande pubblico i ruoli di primo piano in fiction altisonanti tra le quali soprattutto Distretto di Polizia, dove ha interpretato il celebre ruolo di Roberto Ardenzi nelle Ultimeo Relatore 62enne è tornato a far parlare di sé per un fatto particolarmente drammatico, un terribile annuncio che ha scosso tutti. Si tratta di una grave perdita per il noto attore, un fulmine a ciel sereno che ne ha scosso profondamente il suo animo. Era un suo caro amico e collega, ecco di chi parliamo non è un bel momento per l'attore e regista romano, tra i tanti riconoscimenti. Vincitore del Davide di Donatello nel 2001 per il cortometraggio Non diregatto. Tuttavia, Tirabassi è inevitabilmente associato soprattutto a Distretto di Polizia, dove ha preso parte a ben 153 episodi. Proprio in questa lunga esperienza lavorativa ha avuto modo di lavorare con tanti altri grandi attori, con alcuni di quali ha stretto poi dei rapporti di amicizia. Giorgio Tirabassi era un suo grande amico e collega, proprio per questo ha deciso di dedicargli un ultimo saluto, pubblicando su Instagram una foto di Nobile e un breve messaggio da Dio, riposa in pace amico mio. Roberto Nobile ha lasciato un grande vuoto nel mondo del piccolo schermo e tanti messaggi d'affetto che gli sono pervenuti in queste ore, dimostrano tutta la stima di cui godeva da parte di amici e colleghi.